Chiunque ama la libertà, il pensiero critico, che vuol dire usare la testa, non fermarsi a quello che i poteri forti, anche legittimi, come i governi, vogliono imporre come verità i pse dixit, ma invece vogliono cercare di capire, criticare anche determinate prese di posizione, non può non allarmarsi per il fatto che hanno arrestato il fondatore e amministratore delegato di Telegram, che in fondo è l'unica piattaforma ancora veramente libera. Attenzione a non cadere nel tranello, alimentato anche da alcuni giornalisti, ecco ancora oggi mi è capitato di vedere qui su TikTok un, penso, giornalista, il quale appunto terminava la sua difesa sul fatto che è giusto che abbiano fatto quello perché Telegram è un veicolo di contenuti criminali e lui diceva Chiunque non accetta questo vuol dire che sotto sotto è a favore delle accuse che vengono date, ma questa è censura, però non viene definita così, ma bisogna moderare, usano ormai il termine moderazione, che è sinonimo di censura e quando fanno così in adempimento a quell'ordine, ormai a quel provvedimento europeo appunto che vuole proprio controllare le varie piattaforme, pensiamo ai non smask che hanno cercato di in fondo dirgli o ti adegui a quello che diciamo o facciamo chiudere x, ecco questo è un atteggiamento tipico non dei paesi democratici, e poi vengono a fare la filippica contro certi altri paesi che vengono invece definiti antidemocratici, ah perché la nostra Francia in modo particolare adesso ma anche l'Inghilterra si stanno dimostrando democratici, non mi pare proprio.